Chopin, fatti vedere, Chopin è un bellissimo, Bordeccolli, pastore australiano, vieni Chopin Chopin è adulto, ma è un bel cane, bellissimo amore, Chopin Chopin, questo è pure una meraviglia, questo è il fratello di Chopin, età? Anche 8 anni, anche questo, fratello di loro, bellissimo, sono una serie di Bordeccolli, sono uno spettacolo, sono 5 Bordeccolli, tutti di circa 8 anni Loro papà è volato in cielo e noi siamo sempre qua a chiedere aiuto, ci aiutate per favore, non li voglio portare in canile, non posso portarli in canile Ma come faccio? Ma li guardate negli occhi, ma veramente, come si fa? Chopin, vieni qua Chopin, che meraviglia, un bellissimo Bordeccolli, un bellissimo esemplare, è una meraviglia Chopin, vieni qua, Chopin Questo non è il fratello di loro, quello di là, la sua madre è questa Amore Max Lei è nonnina Sì, lei è la prima a Palermo Quanti anni ha lei? È grande Ha magari 11 anni E la Labrador è femmina? Sì, la Labrador quanti anni ha? Labrador 8 anni, no, di meno, 6 anni 6 anni 6 anni 6 anni, 7 anni Amore, stiamo cercando di trovarti una sistemazione, una casina, eh Sei d'accordo? Ehi, aiutateci, per favore Aiutateci, perché questi cagnolini hanno bisogno di andare in casa Di avere un padrone, una mamma, qualcuno che li ami Io non li voglio portare in canile Cioè io Perché abituati hanno a mangiare le stesse ore Non voglio portarli in canile Perché queste creature sono cresciute così, come si suol dire, dalle nostre parti nella bambaggia Avvolti nell'amore paterno, casalingo E portarli in canile Significherebbe farli morire Io non voglio Questa Labrador è pure spettacolare Come si chiama la Labrador? Bianca Bianca, è come la mia Come la mia biancia Bianca? Bianca Quella fa la guardia alla sera bene Ma che giorno guarda Tutti alle calma Sono delle creature veramente meravigliose Ma che ci vuole? Sono 15 creature 15 anime buone Che ne portiamo uno l'uno a casa E gli troviamo una sistemazione Loro da qui devono andare via Avranno pochissimo tempo per restare ancora qui E devono andare via Perché il papà non c'è più E loro devono andare via L'alternativa è il canile E ripeto Dei cani che sono cresciuti in un giardino così enorme Di certo non possono andare in canile E quindi ve lo chiedo col cuore Aiutateci Aiutateci a trovare una casetta Sono dei cani adulti Hanno c'ho Dai 6 agli 8-9 anni E hanno bisogno di stare in casa Hanno bisogno di stare in un giardino Con una persona che li ami Hanno bisogno di questo Aiutateci per favore Aiutateci Piccoli Ehi Ciao 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 Per favore Condividete questo video Chopin E' timidone E si nasconde Amore mio Magari c'ho anche paura di me Dici ma che vuole questa qui Con sto telefono Magari c'ho anche paura Di tuzza Vi prego Aiutateci Grazie Condividete questo video Per favore Condividetelo Aiutatemi a trovare sistemazione per queste creature Grazie Si trovano a Termini Marese Per info Laura Muriella Telefono 327 12 8 5000 Grazie Grazie Grazie